Alla Saturnitana si chiedeva una prova d'orgoglio, una prestazione di dignità, una vittoria che è mancata troppo tempo in casa dalla partita con la Lazio. In generale poi c'è stato quel sussulto a Verona che aveva fatto ben sperare e invece la Saturnitana è franata rovinosamente in un campionato che si poteva tranquillamente raddrizzare se la società in primis avesse voluto in varie fasi del torneo con le scelte giuste. Perché poi alla fine non è che chissà quali fenomeni c'era bisogno di prendere per mettere a posto la situazione in un torneo abbastanza scadente almeno per quanto concerne la parte bassa della classifica. Sappiamo benissimo ormai che tolte le prime dieci squadre di questo campionato e con il trascorrere degli anni il gap viene evidenziato sempre più tranne qualche squillo, qualche sorpresa. Capita magari per una giornata assorta delle big però insomma il livello è abbastanza basso e più vicino alla serie B nel quanto riguarda le squadre che galleggiano nelle ultime 7-8 posizioni che ad una serie A diciamo competitiva. Per tale motivo i rimpianti sono tanti perché in questo momento sono 10 punti con tutti i disastri che ha fatto doveva stare a 20 punti dalla salvezza in un campionato minimo competitivo. Probabilmente questo vantaggio potrebbe anche questo svantaggio per meglio dire scusate magari fosse stato vantaggio probabilmente resterà anche tale al termine di questa giornata visti gli impegni non facili delle ex ormai dirette concorrenti di questa casernitana sta rotolando lentamente verso la serie B probabilmente già è rotolata da tempo ecco il problema è che l'agonia lente è quella della matematica più che altro col sassuolo c'è stata a metà questa prova d'orgoglio perché dopo essersi praticamente fatte da solo i primi due gol come spesso è capitato in questa stagione perché la salvezza cioè dal punto di vista tattico uno che gioca contro la salvezza non è che deve fare chissà quali grandi voli pindarici chissà che alchimie deve studiare può tranquillamente aspettare che la salvezza faccia qualche cappellata che puntualmente arriva può essere cioè prendi gol su un'azione di calcio d'angolo che da una ripartenza poi da elementare insomma nessuno poi fa fallo quando c'era la necessità di fare un fallo tattico ma a parte che insomma gestito proprio male un'azione offensiva che ti trasforma in gol per il sassuolo poi Costil che sul secondo gol che ne combina più di Bertoldo confermando che pure lui insomma chi ne invoca la riconferma nella prossima stagione insomma secondo me sui portieri bisognerà anche lì rivedere un po' tutto in toto e prendere qualche elemento meno attempato e che abbia grandi motivazioni anche Pirola ha avuto i suoi anche Pirola forse si è addormentato un po' ma l'errore grosso è quello di Costil in quella circostanza quindi una volta che ti fai due gol parti da meno due perché poi la serenità in giustante facendosi da solo gol parte sempre da meno due da meno tre quindi per vincere le partite dovrebbe fare quattro gol e non avendo a disposizione sicuramente un reparto offensivo un potenziale offensivo di primo ordine e cambiano i protagonisti ma insomma non è che se ne esce si ricava tanto Ikenesi ha provato a dare un pochino di... si è impegnato ha cercato di fare da punti di riferimento però non è che poi chissà che assistenza tenga anche lui così cioè è una squadra scollata perché magari nei primi 15 minuti ha anche tentato di fare qualcosa però il pallone scotta sempre tra i piedi tre passaggi di file è difficile farli qualche spunto individuale mi aspettavo di più da comisso onestamente perché è un giocatore che mi ha dato qualche sensazione positiva almeno dal punto di vista ecco tecnico mi aspettavo qualche giocata qualche guizzo e invece probabilmente anche lui questo mare magnum fa fatica a trovare posizione a trovare la combinazione giusta con compagni con cui evidentemente non ha ancora trovato la piena sintonia ma ormai il campionato è finito dei giocatori diciamo che sono arrivati a Gennaro difficile salvarne qualcuno solo Pierozzi probabilmente merito una citazione Manolas devo dire che ci mette si vede che fa il possibile perché non vorrebbe sfigurare tutto sommato non è sicuramente tra i meno responsabili però tutti gli altri onestamente hanno lasciato tanto a desiderare anche Vignato si ha giocato poco è stato giocato in causa nell'ultima parte di gara ha avuto con la lucidità di smistare su Zanoli che anche lui è stato molto negativo ha avuto solo questo guizzo dell'assist molto negativo diciamo da quanto è arrivato non riferisco soltanto alla partita col Sassuolo ha avuto questo guizzo dell'assist per maggiore tra i migliori di questa salernitana questo scorcio di girone di ritorno tra quelli che diciamo almeno non ha alzato bandiera bianca ecco Weissman è un attaccante che onestamente non so inquadrare non riesco a inquadrare se sia perché sicuramente non ha la fisicità per tenere da solo il reparto probabilmente ha bisogno di un altro tipo di assistenza perché probabilmente è un giocatore ecco che in teoria credo si è assegnato però ha assegnato tanti colleghi soltanto nella seconda divisione spagnola e si è assegnato perché forse è un giocatore che ha un certo fiuto si fa trovare al punto giusto nel momento giusto laddove però ci sia una organizzazione tale che gli permetta o permetta mette in condizione di mettere in mostra quelle sue caratteristiche queste sue caratteristiche ripeto faccio veramente fatica a inquadrarlo come è perché tecnicamente non mi sembra un giocatore in grado di inventarsi da solo la giocata la fisicità per tenere da solo non la tiene quindi anche lui ha trovato quel gol con l'Empoli che diciamo aveva dato, aveva fatto ben sperare la grinta c'è sempre, la volontà c'è sempre, su quella non si discute di Weissman quello c'è sempre, però serve anche altro anche chi come Ciona ha fatto, diciamo, ha dato, giocando ad intermittenza ha fatto vedere buone cose, insomma, anche oggi più grigio che situazioni positive, ecco, l'unico Weissman è quell'azione del rigore là in quella situazione un po' roccambolesca e qui la Sardinitana ha trovato il secondo rigore stagionale poi c'è stato, Sassuolo ha protestato tanto per il fallo di Pirole in occasione del secondo gol forse c'era pure fallo diciamo ha trovato un arbitraggio più o meno favorevole, diciamo così in un momento in cui serviva davvero poco tanti sono i rigori che la Sardinitana ha reclamato nel corso della stagione è arrivato questo, abilmente trasformato da Candreva in una partita quasi inutile sì, c'è stata questa reazione d'orguglio il punto serve veramente a poco magari con la vittoria si poteva tenere ancora un piccolo lumicino acceso piccolissimo questo pari serve soltanto a praticamente tenere giù il Sassuolo che aggancia sia Empoli e Frosinone ma onestamente come l'ho vista a dire il vero nessuna di queste squadre mi ha fatto grande impressione il problema tra queste tre e una deve retrocedere ora possono anche tirare i dati secondo me io non so, mi faccio fatica a capire adesso tra le tre chi sarà perché il Frosinone forse è quella che gioca un po' meglio però è in caduta libera non riesce a trovare continuità ma gioca degli sprazi di partita buona e poi crolla al primo soffio di vento quindi ha dei giocatori interessanti giovani su tutti i suoi però sta lì vediamo un po' se riesce nel finale a ritrovare gli equilibri che l'aveva portata a fare una grande prima parte di girone di stagione per poi spegnersi dopo quella roboande vittoria a Napoli al Maradona per 4-0 in Coppa Italia il resto c'è poco da dire bene che Andreva dopo la partita un po' così e così col Bologna si è ampiamente riscattato ha parlato da leader ha manifestato ha chiesto scusa ai diffusi anche lui ha detto che è una stagione in cui gli avversari ci hanno aspettato a lungo e non siamo stati capaci la Salernitana non è stata capace di cambiare marcia di fare quei risultati almeno negli scontri diretti in grado di rimettere le cose a posto e di tenere diciamo botta con questi avversari di giocarsene insomma fino alla fine cosa che era ampiamente alla portata secondo me al di là bastava veramente non bisognava prendere fenomeni servivano due o tre giocatori che sicuramente fisicamente stavano meglio di quelli che sono arrivati o anche con grandi motivazioni io non lo so qualcosa che serviva a qualcuno che si facesse sentire nello spogliatore questo l'abbiamo detto sempre anche la gestione del caso DIA totalmente sbagliata adesso un nuovo tira in molla per il reintegro la Salernitana ha fatto due tiri in molla infiniti decisioni una lentezza nel decidere da farsi che insomma lascia tanto tanto a desiderare ieri il volino non c'era il capitano non voglio utilizzare termine però voglio dire in questi momenti anche quello è un segnale stare vicino alla squadra è facile quando le cose vanno bene in questo momento c'era bisogno della sua presenza perché poi lancia dei messaggi un po' contraddittori adesso la gente vuole sapere semplicemente se vuole andare avanti o e come vuole andare avanti io non dico onestamente non sono uno di quelli che dice domani mattina deve fare la squadra di undici fenomeni anche perché il calcio è strano puoi mettere undici fenomeni e poi non fai niente deve fare una squadra in cui ci siano delle persone competenti che abbiano delle idee che siano in grado di trovare degli elementi validi che siano giovani, vecchi di media età questo non importa l'importante è avere delle persone che anche con un'organizzazione di scouting mettano a disposizione dell'allenatore che sarà scelto elementi che facciano che siano utili a quel modello di squadra che vuole disegnare il tecnico scelto e poi ci vuole persone che comunque nello spogliatore si fanno sentire nei momenti di difficoltà sia come calciatori quindi leader in campo ma anche fuori dal campo con dirigenti forti forti non fisicamente ma di carattere in grado di alzare la voce quando bisogna alzarla nel modo opportuno senza anche far trapelare tante cose questo c'è bisogno poi vincere ci vuole poi quel pizzico il quid in più te lo dà anche con la fortuna come parte la stagione come vanno certe cose però se c'è un'organizzazione c'è un'idea c'è una progettualità c'è la voglia di fare qualcosa di positivo si mettono in campo delle idee c'è sinergia tra chi fa il direttore sportivo chi fa l'allenatore eventualmente chi sarà il direttore generale si viaggia tutti sulla stessa direzione è già un punto di partenza perché quello sicuramente non c'è stato quest'anno ognuno ha cercato di scaricare un po' sugli altri le colpe l'abbiamo visto anche nelle interviste anche Liverani alla fine ha scaricato su DA onestamente non va bene questo tipo di gestione c'è bisogno di gente che remino tutte sulla stessa direzione questo è proprio l'incipit fondamentale per svoltare poi vincere perdere ci sono tanti fattori sicuramente bisognerà sarà poi dovrà essere bravo chi dirige chi avrà l'operatività sul mercato nel trovare gli elementi giusti per dare a Salerno la Salernitano una squadra in grado di fare un calcio propositivo in grado di cancellare una stagione da dimenticare e poi chissà magari una squadra che se la giochi fino alla fine per riconquistare la massima serie per andare ai playoff comunque per giocarsela una squadra comunque che sia in lotta per le prime posizioni e poi si vede perché lì ci vuole ripeto poi un campionato sempre equilibrato e ci vuole poi quel pizzico di fortuna che quest'anno insomma non c'è stata in altri casi c'è stata e beh capita speriamo bene ci risentiamo per Lazio Salernitano per questo diciamo lento lento finale di stagione che si vive insomma contanto con un groppo alla cula per quello che che sta accadendo insomma per una amara retrocessione che a quale manca ormai solo la matematica ci risentiamo per la disannina del match con l'ex Lotito